ma bentornati amici investitori e benvenuti a questo nuovo video io sono daniele il vostro consulente finanziario di fiducia e bentornata la nostra rubrica un occhio sui mercati rubrica che si occupa di andare ad analizzare quello che è successo nell'ultima settimana sui mercati controllare quali sono state le notizie che possono interessare a livello geopolitico macroeconomico sociale e controllare come queste notizie hanno si hanno impattato all'interno dei mercati finanziari come sempre prima di iniziare in questa bella puntata perché come avete letto dal titolo è terminato il primo trimestre del 2023 un trimestre che ci ha regalato tante sorprese faremo una bella analisi un po complessiva non solo sull'ultima settimana ma ci prenderemo del tempo per andare a guardare quello che è successo nell'arco dell'intero trimestre degli ultimi 90 giorni come sempre prima di cominciare però ci tengo a fare due precisazioni la prima è che come sempre qui nessuno prevede il futuro in questi video non servono per dire domani l'S&P toccherà nuovi massimi oppure domani l'S&P scenderà nuovamente questi video servono esclusivamente per permettere a tutti quanti coloro non possano studiare giornalmente quello che succede sui mercati perché purtroppo non hanno il tempo non hanno la capacità io per fortuna posso occuparmi di questo perché questo è il mio lavoro ma mi rendo conto perfettamente che non tutti quanti gli investitori sanno effettivamente cosa succedono ai loro soldi nel corso delle settimane e di conseguenza non sono in grado di prepararsi alle settimane successive ecco questo video servono un po per dare degli spunti di riflessione che poi eventualmente ognuno di noi può se vuole approfondire e contestualizzare nel proprio portafoglio e il numero due mi ricollego quindi questi non sono assolutamente dei consigli finanziari in alcun modo questi video non servono per dire investi in apple investi in anibaba non serve nulla anzi perché ognuno di noi è diverso ognuno di noi è unico e una consulenza seria sana e professionale deve essere fatta conoscendo chi è cliente conoscendo la persona con la quale ci si sta rapportando per comprendere anche la sua strategia di investimento tutta una serie di cose che come sempre diciamo non permettono di fare delle consulenze finanziarie serie sana e professionali quindi questo non è l'oggetto del video ma non perdiamo altro tempo iniziamo subito a parlare di questa settimana che come ho detto è in celebra la chiusura di questo 2023 che molte persone a fine 2022 non si sarebbero aspettati mi compreso è sinceramente molto molto trasparentemente lo dico un trimestre che ha rivisto la luce dopo un 2022 molto complicato ma prima di tutto facciamo in questo modo dopo aver fatto questo intro prima andiamo a guardare le notizie della settimana perché come sempre questo è quello di cui ci occupiamo durante le settimane poi guardiamo gli ultimi cinque giorni di mercato dopodiché facciamo una rassegna generale sull'intero l'intero trimestre per tirare delle somme per fare una serie di considerazioni come di nostro solito quindi come sempre questo è il mio profilo personale di instagram se volete ricevere le notizie in anteprima potete andare a iscrivervi dati dell'inflazione che sono usciti le inflazioni l'inflazione preliminare che finalmente diciamo vediamo in profondo ribasso anche se c'è da dire una cosa c'è da dire una cosa fin da subito per tutti quanti i dati che vedremo sull'inflazione da qui ai prossimi mesi ovvero che i dati dell'inflazione sono fortemente fortemente impattati da quello che si chiama effetto base che cosa che cosa faccio riferimento se noi andiamo a vedere adesso ad esempio l'inflazione dell'eurozona arriva al di sotto della tese 6.9 per cento se vi ricordate noi la lettura precedente il mese scorso abbiamo visto un'inflazione che è scesa al 5 punto all 8.5 per cento e quindi vediamo una decelerazione importante in termini assoluti per un'inflazione anno su anno ma non vi lasciate ingannare perché questo non significa che c'è stata una decelerata molto brusca significa semplicemente che si è vittima tra virgolette dell'effetto base che non è un fenomeno negativo bisogna semplicemente conoscerlo ovvero un anno fa quindi a marzo del 2022 l'inflazione è cominciata ad aumentare un po' tutto quanto il mondo in realtà anche leggermente da prima facciamo da marzo c'è stato il grande riaumento e quindi dato che l'inflazione considera l'anno su anno bisogna prendere in considerazione l'inflazione dell'anno precedente che non era dei valori normali e 2 per cento 3 per cento e giù di lì ma era già molto alta e quindi anno su anno noi vediamo che l'inflazione rispetto all'anno precedente marzo 2022 era già particolarmente alta è arrivata a livello 6.9 per cento quindi il 6.9 è corretto come numero questa decelerata però è data dal rialzo che abbiamo visto dal rialzo che abbiamo visto a marzo 2022 e che continueremo a vedere nel corso delle prossime sedute sicuramente questo effetto base amichevole mi verrebbe da dire continuerà a darci dei buoni risultati almeno in termini assoluti per i prossimi mesi fino a tendenzialmente ottobre nel caso dell'eurozona però ovviamente questa parte che è un dato preliminare che bisogna aspettare il dato finale ma comunque è estremamente importante da tenere aggiornato però mi raccomando in valore assoluto è corretto in valore di percezione mi raccomando nel non pensare che ok perfetto questo dislivello è dato dalle politiche monetarie è dato finalmente dalla BCE che sta ricevendo i suoi frutti adesso e bloccherà gli aumenti sui tassi di interesse no mi raccomando no anche perché il consensus vi consiglio sempre di andarlo a guardare il consensus non è così distante proprio perché si va a scontare quello che è l'effetto base il consensus sarà il 7.1% ma l'eurozona è andata meglio delle attese ok quindi 6.9% sicuramente comunque un dato positivo andiamo a prendere a 5 anni giusto per far vedere la bella decelerata alla quale stiamo assistendo ecco comunque lo vediamo da qui l'aumento di marzo e quindi assolutamente un dato positivo poi andiamo avanti Germania brusca decelerata anche la Germania 7.4% anche la Germania eh che rimane in linea con il consensus comunque il consensus ci si aspettava un 7.3% mentre il dato uscito è stato pari al 7.4% Francia al di sopra dell'attese la Francia che arriva al il consensus era il 5.5% mentre l'inflazione reale è stata al 5.6% e andiamo a vedere anche il dato dell'Italia che continua la sua bella decelerata e sorprende tutti quanti eh in maniera estremamente positiva l'Italia da inizio anno continua a darci delle belle soddisfazioni eh devo dire la verità adesso con tutti quanti eh il restio che abbiamo in Italia lo sapete con tutte quante le varie le varie vicissitudini del caso la l'inflazione il consenso se era l'8.2% il l'inflazione preliminare attuale il dato si è stampato al 7.7% quindi ehm una decelerata migliore rispetto a quello che erano eh che che vi si aspettava quindi dati per quanto riguarda l'inflazione assolutamente positivi nulla da dire comunque bisogna rimanere presente che stiamo parlando di dati che per quanto molto positivi eh e per quanto avvantaggeranno dell'effetto base nel corso delle prossime nelle prossime nei prossimi mesi comunque stiamo parlando ancora ancora di un'inflazione attaccata a a dei livelli troppo lontani rispetto a quelli che era il che è l'obiettivo della BCE della Fed pari al 2% comunque c'è tanto lavoro da fare però è indubbio dire che i dati sono assolutamente positivi eh io lo ricordo sempre da inizio 2023 stiamo dicendo questa cosa finalmente il 2023 è uno spartiacque perché stiamo vedendo le differenze del 2022 la luce in fondo al tunnel un tunnel lungo da percorrere ed è il problema di quando i mercati sono troppo ottimisti e non considerano che comunque ci vuole ancora tanto tempo ma i risultati si stanno ancora vedendo la ricetta il mercato del lavoro tiene ancora abbastanza bene il mercato economico tiene ancora abbastanza bene per quanto sia ancora fortemente improbabile che si riesca ad uscire senza una una recessione e tutti quanti vanno a sperare compreso francamente per una risoluzione migliore del tutto quello che si è andato a creare nel 2022 un soft landing sia per l'Europa che soprattutto per l'America che come sappiamo traino un po' tutti quanti i mercati nonostante ci siano delle differenze non non irrilevanti tra i vari mercati ma diciamo che sicuramente ha più peso porta più peso il mercato americano rispetto a quello europeo a livello internazionale ma comunque insomma per adesso non possiamo far altro che essere contenti nel chiudere in bellezza questo questo trimestre del 2023 andiamo avanti PMI cinese il PMI il Purchasing Managers Index che come sempre ricordo sono delle interviste è un reportaggio derivante da il parlare con gli amministratori delle varie aziende in questo caso del settore manifatturiero il quale va in positivo finalmente il Purchasing Managers Index cinese manifatturiero torna ad essere positivo ricordo a tutti quanti che un qualunque valore superiore ai 50 è un valore che di espansione riflette l'espansione economica più è alto il valore più c'è l'espansione economica nel prossimo futuro o comunque si prevede ovviamente le aziende prevedono che ci sarà espansione per i loro affari per tutti quanti i dati superiori al 50 i dati inferiori al 50 indicano una contrazione economica quindi è un dato negativo per quanto riguarda gli affari è un dato che comunque non vede di buon occhio il prossimo futuro ecco il PMI manifatturiero cinese che va ad aumentare ritorna a dei livelli che non vedevamo da quasi l'anno scorso da giugno dell'anno scorso fino ad adesso a parte luglio tutti quanti i dati successivi sono stati al di sotto dei 50 del dato 50 quindi tutti quanti dei dati in contrazione economica l'abbiamo rivisto con la riapertura della Cina piano piano si è aumentato è tornato ad essere molto positivo questo dato fino a tornare a un livello che francamente non posso che reputare assolutamente positivo per il governo cinese poi l'abbiamo visto anche il discorso di Alibaba adesso non entriamo nel merito perché sono solamente notizie di cronaca che i video questi video non parlano di notizie di cronaca salvo casi particolarmente eccezionali con Alibaba che comunica che si dividerà in sei aziende e l'azienda che ha i mercati che hanno assolutamente accolto in maniera positiva la notizia l'abbiamo visto che magari se se abbiamo tempo gli diamo un attimo un'occhiata giusto così per per cronaca ma comunque dato molto positivo per la Cina mentre ancora migliore è il dato dei servizi che chiude in grande aumento il dato dei servizi quindi il PMI delle aziende non manufatturiali che si occupano di servizi scusate arriva a 50 non l'ho preso servizi eccolo qui dato dei servizi che chiude a 55 quindi torna ai livelli che avevamo visto pre giugno pre agosto del 2022 dato assolutamente positivo nulla da dire espansione economica come sappiamo i servizi un po in tutto quanto il mondo la stanno facendo da padrona rispetto al settore manifatturiero che continua un po ad arrancare l'abbiamo visto in america l'abbiamo visto in europa adesso lo stiamo vedendo anche in cina ma comunque dato assolutamente da positivo che non ci rimane da far altro che festeggiare per tutti quanti coloro i quali abbiano la cina in portafoglio sono sicuramente dei dati interessanti da considerare soprattutto se stiamo valutando degli ingressi nel mercato cinese come sapete benissimo il mercato cinese un mercato particolare io ritengo che debba essere trattato in maniera differente rispetto ai normali paesi emergenti di fatto ormai è solamente una nomea il paese emergente cina perché ormai parlare di emergente è uno simono mi verrebbe da dire però comunque io lo tratterei sempre in maniera differente queste si erano le notizie della settimana e andiamo a dare un'occhiata che cosa successe mercati nell'ultima settimana giusto per concludere un ciclo un ciclo che tra parentesi sono veramente contento di aver continuato a trattare assieme a voi mi fa veramente piacere condividere questa lavoro ma comunque una passione personale nell'analizzare settimanalmente giornalmente anche quando possibile quello che accade sui mercati perché ritengo che sia l'unico modo che noi abbiamo per comprendere realmente cosa stanno facendo i nostri soldi e per quale motivo si muovono in un determinato modo e quali possono essere le scelte di investimento derivanti dagli studi che facciamo ci tenevo veramente a dirlo perché quest'ultimo trimestre ma in generale da quando abbiamo iniziato ci sono state tante soddisfazioni proprio a livello personale quindi al netto delle varie moine come si sono passi mercati allora è sempre 500 che chiude la settimana in positivo e la va a chiudere andiamola a confrontare velocemente giusto con il nasdaq per andare a vedere sorprendentemente ve lo metto a linee per queste comparazioni perché la reputo migliori sorprendentemente un nasdaq che riesce a recuperare alla fine tutte e tre in tutti e due gli indici riescono a chiudere con un più 3 e 47 più 3 25 comunque un dato assolutamente positivo e già che ci siamo andiamo a mettere in confronto con l'euro stocks anche l'euro stocks riesce a chiudere in positivo e adesso mettiamolo in comparazione con le sempre 500 perché mi permette lo sapete benissimo io tenendo sempre a utilizzare il mercato americano principalmente usando l'euro stocks come da come indice piuttosto che come nasdaq perché lo sappiamo benissimo il dato del nasdaq scusate c'è stato un refuso aspettate ah no 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 niente niente l'euro stocks avevo sbagliato dato e come sapete benissimo il nasdaq non lo reputo un buon un buon indice complessivo dell'america volendo volendo essere sinceri neanche l'S&P 500 lo ritengo un buon indice per considerare l'economia americana però è l'indice più utilizzato dell'indice che utilizzo per fare un riferimento con l'euro stocks che in questo caso continuano ad andare in sopra performance e quindi la chiude la settimana in positivo con un più 4 per cento rispetto a l'S&P che la chiude altri per cento comunque dato assolutamente positivo e colgo l'occasione per andare a guardare finalmente assieme i layer to date quindi a netto di quello che è successo questa settimana una settimana che francamente è stata in transizione positiva ci siamo ripresi dalle difficoltà derivanti dal sistema bancario dal sistema bancario sia in america che soprattutto in europa lì c'è stata molta paura derivante principalmente dalla speculazione sapete benissimo il caso credit suisse come fosse non vi dico preannunciato però diciamo largamente sopravvalutato ogni ultime giornate ma comunque ottimo per chi ha valutato di fare degli ingressi io non mi nascondo che con alcuni clienti ho fatto proprio degli ingressi in questo periodo di tumulto perché c'è una differenza tra le notizie di cronaca che spaventano e i mercati i dati quello che ci dicono sui mercati allora già che ci siamo andiamo a prendere in considerazione il rapporto europa e america le quali sono state assolutamente le protagoniste ve le metto a barre l'europa che la chiude in positivo dopo aver subito un periodo di marzo un po più complesso ma comunque che si richiude e si riporta ai massimi toccati nel trimestre al 6 marzo praticamente quindi barri andiamo a farci questa bellissima cavalcata al rialzo con le ultime tre candele giornaliere che hanno stampato bottiglie di non perignon e la chiude in positivo più 13 per cento con praticamente un raddoppio quasi sull'S&P 500 l'S&P che chiude sempre in positivo più 7 59 per cento l'europa più 13 virgola 13 per cento dati che sfido molte persone a dire che si sarebbero che si sarebbero concretizzate senza timor di smentita posso dire che sono andate assolutamente oltre le aspettative ed è qui il grasso il grosso problema bisogna sempre tenere a mente che quello che noi stiamo vedendo mercati stanno festeggiando per via di questo tunnel che stiamo vedendo per il mercato che continua a rimanere per un'infrazione che si sta abbassando attenzione però a non pensare che adesso il peggio è passato perché perché c'è ancora tanta 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 strada da fare quindi dei dei ritracciamenti quantomeno insomma io me li aspetterei andiamo avanti andiamo giusto un confronto S&P e il Nasdaq il Nasdaq che anche va in over performance e di parecchio rispetto ad un S&P 500 aspettate che la metto year to date ecco qui S&P 500 759 Nasdaq più 20 per cento lo sapete benissimo titoli tecnologici in questo momento vanno in over performance rispetto a un paniere più diversificato come l'S&P 500 perché aumenta la volatilità aumenta il grado di rischio aumenta le esposizioni su asset più rischiosi adesso andiamo a guardarci bitcoin giusto per vedere di che cosa stiamo parlando comunque un Nasdaq che strappa da inizio trimestre l'inizio trimestre dall'inizio anno in realtà un quasi più 20 per cento dato assolutamente positivo dai già che ci siamo facciamoci una bella panoramica e guardiamoli tutte year to date il nostro carissimo Futsimib chiude positivo anch'esso più 13 e 60 per cento un Futsimib che francamente ha sorpreso tantissimo e che anzi va in over performance e di tanto rispetto al DAX DAX che la chiude con il più 11 come vediamo i panieri europei che sovra performano il nostro S&P 500 CAC 40 quindi il paniere francese più 12 per cento 12 e 29 per cento l'Ibex 36 quindi indice spagnolo che va al più 11 e 27 per cento questo è quello che è accaduto sui mercati a livello generale andiamo già che ci siamo un po più nel dettaglio diamo un'occhiata a quello che è stato uno dei protagonisti soprattutto delle ultime sessioni il gold che ha avuto una cavalcata stupenda e è riuscito a chiudere il trimestre praticamente in linea quasi con l'S&P 500 più 7,95 contro un più 7,59 un gold che l'abbiamo visto in un momento complicatissimo per il settore bancario è praticamente esploso e ha registrato un massimo dal quasi minimo toccato all'8 marzo del più 10 per cento assolutamente positivo questo dato sull'oro infatti molti investitori hanno ricominciato a rivalutare l'oro bitcoin che neanche a dirlo in un momento di grandissima volatilità riesce ad andare in adesso lo vediamo qui guarda vi tolgo l'S&P 500 giusto per scusate vi tolgo l'S&P 500 eccola qui perché credo che sia un po più utile guardarlo con il rapporto euro dollaro ci siamo lasciati con inizio mese inizio anno con un bitcoin che la chiudeva a 16.000 dollari e adesso si porta sui 28.000 dollari quindi abbiamo un over performance una performance assolutamente positiva più 72 per cento ovviamente derivanti da una discesa non parliamoci chiaro non ci siamo ritrovati con il 2022 aspettate 2022 qui quindi abbiamo avuto alla fine eccolo qui 2022 quindi se consideriamo l'ultimo anno e mezzo la grandissima discesa comunque ci troviamo con un meno 42 per cento e rispetto ai massimi toccati raggiunti da bitcoin quindi a 65 ci troviamo più o meno a un meno 56 per cento quindi comunque un bitcoin che è ben lontano da trovare i massimi ma come sappiamo in un periodo e in un momento in cui questi sono gli ultimi 5 giorni in un periodo e in un momento in cui gli asset più speculativi gli asset più rischiosi tendono ad avere del sopravvento quale miglior asset speculativo rispetto di una currency della più grande cripto currency scusate della più grande cripto del mondo quindi bitcoin che ci stampa un più 70 per cento è un'operazione assolutamente speculativa che ha portato i suoi frutti andiamo a guardarci giusto il paniere del dollaro come si è mosso rispetto a year to date il dollaro che la chiude in negativo con un meno 1 per cento ne ha approfittato assolutamente euro dollaro che rispetto aspetta che ve lo vado a prendere ve lo comparo c'è una bella comparazione con gli us e riesce ad approfittarne e la chiude in positivo con un più 1 e 70 per cento queste erano le notizie non solo della settimana ma anche una rassegna di quello che è successo nell'ultimo trimestre di mercato che cosa succederà domani ovviamente io non ne ho la più palle idea sicuramente chi si è posizionato inizio anno non ha potuto far altro che andrà a festeggiare chi si è spaventato per il mercato delle banche poi è mancata la grande risalita ora è ragionevolmente probabile pensare che ci potrà essere un certo ritracciamento abbiamo avuto una performance di tutto rispetto per quanto riguarda il mercato azionario il mercato dell'oro abbiamo avuto un grandissimo rialzo che mi fa pensare che a un certo punto sarà un certo ritracciamento che dovrà essere contestualizzato ecco qui è la bravura dell'investitore da che cosa arriverà un continuo rialzo oppure un ritracciamento dalla semplice volatilità oppure da dei dati concreti di miglioramento effettivo a rialzo oppure di peggioramento effettivo delle condizioni non voglio dilungarmi troppissimo ne abbiamo già parlato settimana scorsa due settimane fa anche quello che stiamo assistendo è uno scontro tra l'inflazione e le banche centrali le banche centrali che stanno facendo il loro lavoro l'inflazione si sta abbassando sta andando tutto quanto come deve filare fino a che e se succederà se si romperà qualcosa ecco in quel caso bisognerà sicuramente andare a correre a ripari qualora la vostra strategia ovviamente lo preveda oppure stringere i denti e continuare a rimanere investiti di certo non possiamo che essere soddisfatti di questo di questo primo trimestre e io personalmente sono assolutamente soddisfatto quindi questo era quello che vi volevo dire in questa puntata spero che come sempre vi sia piaciuta spero che vi abbia fatto piacere questa rassegna magari ci rivedremo fra te mesi con una rassegna da inizio anno e dell'ultimo trimestre mi farebbe assolutamente piacere per adesso io ve la rimando a voi come si muoveranno i mercati? facciamoci una chiacchierata posto che nessuno vorrebbe del futuro lasciatemi un commento qui sotto per farmi sapere un po' che cosa ne pensate e noi come sempre ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti ragazzi grazie grazie